Ma prima farò una sorpresa a Bebella e andrò a chiederle di sposarmi. Bebella? 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 Carlinhos! Ti prego, aiutami, devo estrarre! Che devo uscire? Come farò a spiegarlo alla mia famiglia? E proprio oggi! Che cosa diranno delle mie corna da renna di Babbo Natale? Rilassati, ho pensato a come posso aiutarti. Arriverai con una nuova fidanzata. Io voglio morire! Mio Dio, è Natalandia! Il cammino di Babbo Natale! L'orologio di Harry Potter! Dovevo rifletterci meglio. Andiamo, capo. Portare una sconosciuta alla cena di Natale della tua famiglia. Cosa può andare, storto? E dove vi siete conosciuti, piccioncini? In spiaggia. Festa! Sì, in spiaggia. Attenzione! Di chi è questa risata che non conosco? Salve! Dobbiamo assolutamente inondare Carlinhos con lo spirito natalizio. Uno, due, tre. Io non ho mai conosciuto nessuno come te. La persona più vera che io conosca. Maestro! Interrompete la musica! Chi è Natal? Chi è Natal? Un leon vai ci insinare. Chi è Natal? Chi è Natal? Chi è questa sconosciuta, misteriosa e fuori controllo che Carlinhos ci ha portato per Natale? Questa donna è una vera bugiata. Che cosa mi nascondi? Carlinhos? Chi è questa ragazza? Chi è Natal? Peduali. Non è molto topics王 e fuori controllo. Chi è Natal? Chi è 자�納 parmi?" Chi è Natal? Chi è Natal? Chi è Natal? Un grande sul rigoletro.